Dopo il ritorno alla capienza più adeguata ai luoghi di cultura per respirare a pieno questi luoghi come sono la biblioteca, un altro passo avanti, domenica è stradomenica ed è stradomenica anche con la Biblioteca Oliveriana e non succedeva da tanto. Sì in effetti dopo la chiusura dovuta alle cause della pandemia che tutti quanto conosciamo finalmente domenica prossima per la stradomenica la Biblioteca Oliveriana sarà di nuovo aperta e sarà aperta appunto con questa un'occasione straordinaria per poter visitare le stanze che solitamente non sono accessibili al pubblico. Abbiamo previsto tre appuntamenti, tre incontri, tre visite guidate che saranno alle 15.30, alle 16.30 e alle 17.30. Queste visite guidate oltre a ripercorrere anche velocemente quella che è la storia della Biblioteca e dei Musei Oliveriani faremo vedere alcune delle nostre collezioni a cominciare dalle lapidi dedicate ai caduti nella Prima Guerra Mondiale che sono state inaugurate, la mossa è stata inaugurata il 4 di novembre ed è ancora chiaramente visibile in Oliveriana e insieme alle lapidi ci saranno anche degli altri reperti dedicati sempre alla Prima Guerra Mondiale, in particolare un fondo fotografico che rappresenta i campi di battaglia appunto ripresi durante la Prima Guerra Mondiale e poi avremo la possibilità di visitare i nostri depositi e anche alcuni reperti e altri documenti relativi alla storia di Pesaro e alla storia anche del collezionismo da cui si originano poi la Biblioteca e i Musei Oliveriani. Per accedere alle visite guidate non è necessaria la prenotazione ma ovviamente secondo le disposizioni legislative è necessario per essere in possesso del Green Pass. e poi Luca Cangini che è un nostro collaboratore accompagnerà i visitatori nel percorso che inizierà comunque dalle sale, anche dalla sala manoscritti dove ci troviamo adesso per poi appunto salire al piano superiore e visitare i depositi.